Una vittoria, la quinta consecutiva tra le muramiche del Massimino, arrivata con non poca sofferenza per il Catania di Pino Rigoli. 1-0 e anche la pratica vibonese è archiviata. Il gol vittoria, fortunato, porta la firma di Andrea Mazzarani alla seconda rete stagionale, entrambe realizzate davanti ai propri tifosi. E' proprio il match winner della gara contro i calabresi e il primo protagonista dei segni più della nostra rubrica. Non certo una partita eccezionale la sua, ma anche questa volta ha dimostrato che la Lega Pro gli sta ancora stretta, una risorsa importante e decisiva per la squadra rossa-azzurra. E se anche quando non gioca al top della forma, colpisce una traversa e fa un gol, a Catania non si vede l'ora di vederlo al 100%. Rischiamo, forse, di essere monotoni, ma anche questa volta non si può fare a meno di inserire tra i segni più Matteo Pisseri. La notizia ormai è quando non figura tra questi, quando non si sentirà che ha compiuto i miracoli decisivi. Anche contro la squadra di Vibo Valencia ha fatto valere tutta la sua forza e personalità, intelligente, in occasione della traversa di Paparusso. E' miracoloso sulle conclusioni di Favasuli e Saraniti. Segno meno per Federico Scoppa. Bucolo non è al top della condizione e allora Rigoli decide di affidargli le chiavi del centrocampo. Il regista argentino però non sfrutta neanche questa volta l'occasione e delude le aspettative. Tanti lanci lunghi sbagliati, troppi passaggi poco precisi. E' mai un gioco pulito ed efficace per la squadra, cosa che invece viene richiesto ad un regista. Infine, segno meno anche per Anastasi, che si inserisce così anche lui nella lista degli attaccanti deludenti di questa stagione. A sorpresa, viene mandato in campo dal primo minuto, anche per dare un segnale a Calille Paolucci. Ma la punta rossa-azzurra non incide quanto dovrebbe. Complici, forse anche i pochi minuti nelle gambe. E la poca confidenza col campo, visto lo scarso impiego che gli è stato concesso fin qui.